Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo relativo al meteo in Italia, momento per momento, e grazie, se domani, domenica 11 giugno 2023. Un forte ritorno dei temporali verso l'Italia a partire dal pomeriggio, e questo verso le regioni meridionali, soprattutto e in misura minore, zone separate dal nord, con il rischio di formazione torrenziale e piccoli chicchi di grandine in caduta, e quindi per domani, domenica, temporali forti e piogge intense su, Marche Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria Basilicana Puglia, temporali deboli in aree separate di Liguria, Piemonte, Valle da Aosta, Toscana, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Emilia Romagna, piogge molto deboli e deboli in zone separate della Sicilia, Sardegna e periodi di stabilità, e quindi temporali e piogge saranno più potenti al sud e aree estese dall'Abruzzo alla Calabria, e ogni altra importante notizia che vi riporteremo in seguito.